Ciao, oggi sono qui per parlarvi degli acquisti che ho fatto venerdì scorso, acquisti molto succosi, bello bello, andiamo subito. Partiamo da due manga di quella casa editrice, innominabile. Ecco qui, il primo è Pluto numero 3, di Urasawa su idea di Tezuka. Bello, la storia mi piace tantissimo, ed è comunque l'unica rivisitazione di Tezuka che per ora mi piace e che trovo comunque interessante e valida da comprare. L'edizione è la solita, con alcune pagine a colori, stavolta stampate con colori comunque decenti. Ritengo che il prezzo comunque di 7,50 forse è un po' troppo elevato, considerato quanto vende, cioè il primo numero è già saurito e già lo stanno ristampando dopo due mesi. Comunque è bello, molto, molto bello, lo consiglio. Poi, altro manga, ecco qui, il terzo numero di Nausicaa della Valle del Vento, la nuova edizione, enorme. Bello, questa è stata l'ultima copia in fumetteria, cioè sono andata e è uscito da tre giorni, ho dovuto prendere la copia da esposizione, in vetrina. E il proprietario della fumetteria neanche lo sapeva che ce l'aveva da esposizione. Io sono arrivata tutta carina e non vedo Nausicaa, lui fa, l'abbiamo finito. Mi ha fatto, ma c'è una copia in vetrina, la posso prendere? E lui mi fa, ah, neanche lo sapevo che c'era, quindi, ah ah ah, ce l'ho! E tre secondi dopo un ragazzo gli ha chiesto dei primi numeri di Nausicaa, quindi sono soddisfazioni. Bellissimo, anche se mi pare stranissimo che comunque si è esaurito dopo neanche tre giorni dall'uscita. Voglio dire, io non ho tempo di andare a correre tutti i giorni in fumetteria quando esce qualcosa, mi spaventa tutto ciò. Comunque è bello, bello, questo è stupendo. E finalmente un'edizione che vale abbastanza i soldi spesi, anche perché il formato è molto grande, dentro c'è il poster a colori pure. Facciamolo vedere. Vabbè, ora non riesco quasi ad entrare il volume per farvelo vedere, però. Bello, storia stupenda che tratta temi importanti tra guerra e ecologia. Fantastico, veramente bello. Pan copertina, c'è Kushana, io adoro questo personaggio anche più della protagonista Nausicaa. Fantastico. Poi, passiamo alla Dynit. Ha recuperato il numero tre delle situazioni di lui e lei, la cosiddetta Big Love Edition. Cioè la ristampa che stanno facendo con due volumi in uno. Infatti vedete quanto è cicciottoso. Ah, infatti in pratica in ogni volume di questa edizione corrisponde a due volumi originali. Infatti la serie completa si comporrà di undici volumi così. Ha un prezzo estremamente contenuto perché è solo di 6,90€. Quindi sono due volumi, con tutta la sovra copertina. Fantastico. Io l'avevo snobbato al tempo della prima edizione ma sono molto contenta di averlo ripreso adesso perché veramente, finalmente, è dei liceali che si comportano da liceali con tutti i dubbi ed incertezze comunque tipiche di quell'età. E in questo numero finalmente vediamo che Arima nasconde molto più di quello che sembra. Bello, bello, bello. Ok, vicino un po' alla copertina. Sicuramente uno degli shoujo più interessanti pubblicati in Italia di sempre. Poi, sempre della stessa trice Masa Mitsuda. Il secondo numero di Insy Winsy Monster, sempre della Dynit. E il secondo e ultimo numero, infatti è una miniserie molto molto carina. Dico e spero di poter fare una recensione presto. Qualcuno l'ha definito un po' un bignamino nelle situazioni di lui e lei perché comunque ricorrono temi come l'accettazione di sé. Però molto più leggero, diciamo, molto più sul comico e divertente e molto carino. Sicuramente una spanna sopra la media degli shoujo scolastici pubblicati in Italia. Carinissimo. Poi, l'ultima chicca del giorno è Il box dei Cyborg. Bello, bello, con ben tre volumi dentro. Pagato 22,50 euro. 7,50 euro a volume. Edizione fantastica per i volumi. I volumi mi piacciono molto, sono anche più morbidi. Ne prendo uno rispetto agli standard della J-pop. Insomma, vedete, questi si possono leggere senza rischiare di sventrarli. Insomma, come alcuni volumi J-pop che, se per caso ti sfugge la pagina, rischiano di mozzarti la mano. Però il box non mi piace molto. A parte che è diverso da quanto annunciato. Ma vabbè, passando sopra questo, c'è stato proprio di cartoncino molto molto leggero. C'è una tendenza a montarsi che non mi convince. Cioè, si poteva fare di meglio sul box, indubbiamente. Comunque, sicuramente è un acquisto interessante. Gli ho letti tutte e tre. È un bello shonen di stampo classico calchiardo. Lo consiglio tanto a chi ha i soldi da spenderci sopra. Perché comunque 7,50 euro a volume. Non sono pochi, ma se è un nome giusto per il fatto che è una serie vecchia, di 27 volumi. Insomma, un po' un rischio editoriale. Per quanto Shotari Shinomori, comunque, sia un grande autore. Quindi, bello, bellissimo. Io con questo oggi ho finito. Sono stati acquisti non tanto numerosi, ma costosi. Infatti, mi sono svinata l'ultimo giorno. Ah, dimenticavo. Poi ho anche preso, anche se non ce l'ho qui, il numero 21, la Perfect Edition di Senseiha. Ce l'ho preso per il mio ragazzo, poi non ce lo leggiamo insieme, quindi sta a casa sua. E non ce l'ho qui. Che poi, ovviamente, ci ho anche fatto una figuraccia, perché avevo comprato tutto quello che vi ho fatto vedere. Tutta tranquilla, sono uscita. Con questa bustona. Passo davanti alla vetrina, vedo Senseiha. Ho fatto, oddio, Senseiha! Quindi sono andata a rientrare, ho fatto una figuraccia, ho fatto, eh, mi sono dimenticata di comprare una cosa. Poi, ovviamente, in fumettere me lavorano quattro persone, di cui tre sono sempre simpaticissimi. tranquillissimi, uno è una bravissima persona. Però molto burbero, a me mette soggezione. Ovviamente c'era questo quando io ho fatto questa figuraccia, perché, se no, che gusto c'è? Più neanche mi ricordavo il prezzo, quindi c'ho avuto un po' da ridire quando mi ha detto 4,30. Vabbè, la testa lo fa. E certo, cosa 4,80? Quindi, ho fatto una carrellata di figuracce, dopo che pure l'avevo fatta alzare per andare a prendere Nausicaa in vetrina. Vabbè, queste scenette a cui riesco a dare vita solo io, probabilmente. Quindi, adesso ho veramente finito. Quindi, vi saluto. Ciao, alla prossima!